Aspettate, momento privacy, ok porta chiusa Ciao, bello a tutti, mi ha segnato contro Quagliarella a Fanta Metta sede va, bidè, bidè, questo è un nuovo bagno vedete Bagno, vano doccia, poi qui dietro c'è la specchiera, eccesso, vabbè Siamo tornati con questo nuovo video ragazzi perché la Sampdoria si aggiudica il derby della Lanterna Sì no, dalla luciola era un'altra cosa che ho detto nel pronostico effemminato play Mannaggia Argeno, a me dispiace veramente tanto vederli così bassi in classifica Perché sono penultimi a 6 punti e ovviamente domani devono giocare tutte le altre che stanno particolarmente basse in classifica Tutti gli anni da solito il Genoa parte abbastanza decentemente Poi arriva a gennaio, se venne sto munno e quell'altro e comincia a perdere partite È la verità ragazzi, cioè se stavo sbagliando ditemelo perché insomma E niente, quest'anno invece spero che sia al contrario perché ovviamente se giocano male i giocatori non li valorizzano E magari poi se cominciano a riprendere a gennaio un po' e perché preziosi un po' venne nessuno perché nessuno vale E quindi magari potrebbe succedere l'inverso Io gli auguro sinceramente al Genoa de non retrocede perché è una delle squadre più storiche di Serie A Se non sbaglio la prima squadra italiana creata se non mi ricordo ma mannaggia la miseria Ma parliamo della Sampdoria ragazzi miei perché nel primo tempo il Genoa ci ha avuto due occasioni La prima con la padura qua mezza sforbiciata si è mangiato il gol C'è stato poi il gol appunto di Castor Ramirez Ma c'è stata anche la traversa di Alejandro Rosi che io volevo al fantacalcio Voi direte perché volevi Rosi al fantacalcio? Perché adesso mi sarebbe servito come er pane Poi invece alla fine non ho preso più Avrebbe preso traversa e oggi avrei smadonnato Ma a parte questo poi il secondo tempo sicuramente è stato più vivo Tutte e due le squadre hanno provato Cornetto alla crema a sto giro Hanno provato ad andare in rete E mi dispiace per il risultato che alla fine secondo me è abbastanza bugiardo Anche se guardando poi tutte le occasioni e tutto quello che c'è stato magari la vittoria Comunque l'avrebbe meritata la Sampdoria almeno per 1 a 0 Diciamo 1 a 0 no almeno per 1 a 0 E niente a Sampdoria zitta zitta ragazzi c'ha 23 punti con una partita in meno Potenzialmente a 26 ma speriamo di no perché contro di noi Sono tantissimi punti Sesta in classifica sta facendo una stagione De quelle esagerate Che partita avete visto voi? Lo voglio sapere da voi nei commenti ragazzi miei E' piaciuto il derby della lanterna? Fatemelo sapere con un like al video Domani posso fare una marea di post partita C'è sta Inter-Torino, c'è sta Roma-Fiorentina-Roma La sera c'è il Sassuolo con Milan Insomma una fracca di post partita se li volete Sondaggio in alto a destra in questo momento Ragazzi miei vi lascio come al solito in una buona serata A me sta scappando qualcosa Mi sa tanto che c'è a mollo prima che vado di là Caricherò il video sulla tazza Non è assolutamente un problema Ragazzuoli vi saluto E saluto tutti quelli che amano il calcio Vi piace? Ogni tanto saluto un po' così a casaccio Tanto per Buona serata ragazzi Bella a tutti